Se ne parla spesso e se ne parlerà sempre, perché è la priorità di tutti, la nostra salute. Il tema è al centro di una serie di incontri che puntano i riflettori sul Parco della Salute, uno dei progetti più complessi degli ultimi anni. Al tavolo Salute, Parco e Sviluppo, organizzato al Centro Congressi di Unione Industriali Torino e inserito nel ciclo di eventi di Torino Città della Cultura d'Impresa, si discute di cura, ma anche di come questa possa andare a braccetto con crescita economica e riqualificazione del territorio. Il Parco della Salute è non solo un ospedale, ma è un'occasione di rigenerare il tessuto economico, urbanistico della città di Torino per far crescere il peso di un settore economico, cioè il settore della cosiddetta white economy, cioè dell'economia legata alla salute che è estremamente importante, cresce nel mondo, è capace di esportare ed è un settore per il quale Torino ha le carte in regola per giocare la partita.